Infine, guardiamo la Rapid Review Selezioniamo Rapid Review La Rapid Review si presenta come una ricerca semplificata del PICO dove si scrive solo la P di popolazione e la I di intervento Cerchiamo ad esempio la riabilitazione della persona con ictus Quindi nella P scriviamo Stroke e l'intervento la Rehabilitation or Physiothera Pasterisco come sinonimo Questa ricerca dà la possibilità, una volta lanciata la ricerca, Search di selezionare i risultati più relevanti e confrontarli La Rapid Review permette, con pochi elementi, di reperire letteratura su un argomento che non abbiamo ancora ben definito dandoci una panoramica degli articoli adesso riferiti